Incredibile, incredibile, hanno esonerato Pioli, clamoroso, scusate intanto per la location e se la telecamera si muove un po' ma praticamente la sto tenendo con il braccio, sono in macchina, sono le 10 credo, sono appena tornato dal lavoro quindi ragazzi non è proprio la solita location ma accettatemi uguale, Pioli esonerato, incredibile, Stefano Pioli è stato esonerato e direi che è anche giusto, sì, esonerare la tre giornate dalla fine non ha senso, magari esonerarlo due o tre prima sarebbe stato meglio visto che lui va alla Fiorentina, praticamente sicuro ha già un accordo con la Fiorentina quindi se andrà alla Fiorentina tutto lo staff è esonerato, tutto lo staff, dal primo all'ultimo, si dice che la squadra sarà andata a vecchi tanto per forza chi è che vai a prendere la tre giornate dalla fine, chi ti ci viene? Nessuno, giusto un tifoso solo vecchi che ci può venire visto che è andata a primavera quindi la squadra sarà affidata a vecchi per queste ultime tre giornate ormai tanto la stagione è finita, proviamo a salvare il salvabile io Pioli non so se ringraziarti oppure no, non lo so se ti posso dire sì dai, un ringraziamento per quelle poche partite che ci hai fatto sognare questo terzo posto che poi alla fine invece è stato un disastro la colpa non è solo tu, assolutamente, non sto dando la colpa solo a te però gran parte delle colpe assolutamente sì adesso spero che queste ultime tre giornate vecchi faccia giocare chi ha giocato poco perché tanto ormai la stagione è finita, che faccia giocare Gabigol che faccia giocare anche Andreolli o anche Saizburi per dirvi anche queste ultime tre giornate, perché no, anche un Biabiani quelli che hanno giocato di meno perché tanto ormai la stagione è finita tanto ormai perse per perse, almeno perdiamo con chi ha giocato di meno che con quei morti che abbiamo adesso in campo comunque se vi devo ridere la verità, sono contento sono contento anche perché sono sicuro che il prossimo anno non ci sarà lui cioè Pioli a guidare la panchina dell'Inter ma ci sarà spero Simeone o Conte o forse Spalletti che ve devo dire più? e niente, che io sono stanco, adesso vado a cambiarmi di tutto quanto e Stefano Pioli è stato esonerato molto bene certo, io l'ho detto se la cosa sarebbe stata fatta prima sarebbe stato meglio un video corto, breve, per informarvi se non lo sapevate, ma lo sa chiunque praticamente lo sa chiunque io l'ho saputo appena... sono arrivato, l'ho saputo e ho detto, devo fare subito il video e lo metto subito online niente, fatemi sapere cosa ne pensate voi di questo esonero del mister Pioli che lui va alla Fiorentina, è già sicuro cioè, quindi ci ha preso per il culo fino adesso perché non è che un accordo fra le due squadre si raggiunge da un giorno a quell'altro quindi è da tanto che parla con la Fiorentina quindi tenevamo un allenatore che già sa che andava via quindi quando Zang per farvi capire, no? quando ha perso contro chi era la Fiorentina 5 a 4 lui già sapeva che andava via perché aveva chiesto le dimissioni perché non le abbiamo accettate perché non le abbiamo mandato via contro la Fiorentina non sarebbe cambiato niente però non avremmo perso tipo contro Genno e questo sicuramente se c'era qualcun altro non l'avremmo persa al 100% niente, fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti scusate ancora per questa location un po' così che è la macchina vecchia macchina che mi ha fatto salire di scritti incredibile quindi da domani è tutto lasciate il mi piace e commento è ricomparsa la luce magica scusate è stato un po' così tutto elettrizzato insomma sono stato al lavoro con le prese tutun 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 cioè ragazzo elettrizzatissimo qui da Samart è tutto bello